Consigliere, continuano i rapporti tesi tra opposizione e maggioranza insieme al Comune di Lecce. Questa volta voi addirittura parlate di bavaglio messo dall'amministrazione comunale all'opposizione. Perché? È un termine forte quello che utilizzate. Allora, questa amministrazione che si è autodefinita del cambiamento, della partecipazione, delle finestre stampagnate, come dicevano anni fa, in realtà utilizza metodi di stampo totalmente antidemocratico per mettere il bavaglio all'opposizione. L'ennesima prova di tutto questo è avvenuta qualche tempo fa, quando i consiglieri comunali di maggioranza hanno eccepito la partecipazione di ospiti, di consulenti esterni alle commissioni di controllo, addirittura dicendo che gli ospiti esterni possono partecipare soltanto alle commissioni permanenti, mentre le due di controllo no, perché probabilmente figlie di un dio minore. A quel punto hanno fatto avvalorare questa loro idea da un parere del segretario comunale, che noi abbiamo contestato insieme al collega Scorrano, presidente dell'altra commissione di controllo, non solo riesumando analogo parere del precedente segretario comunale Specchia, che è totalmente in contrasto e che garantisce la presenza di ospiti esterni a qualsiasi commissione consulare, ma andando oltre e chiedendo all'avvocato Pietro Quinto, principe del foro leccese e la cui fama lo precede, quindi non ha bisogno di presentazioni, chiedendogli di fare un parere pro veritate, cioè uno studio di oltre cinque pagine, in cui sia a livello grammaticale, sia a livello esegetico, sia a livello effettivamente giuridico, smonta totalmente quelle che sono le idee dei consiglieri comunali e del segretario comunale. Questo parere che noi abbiamo prodotto mandandolo alla presidenza del Consiglio e a tutti i consiglieri garantisce inequivocabilmente la partecipazione di consulenti esterni alle commissioni, ma non è questo il grave perché noi eravamo certi della nostra ragione, il grave è ancora una volta che ci sia un tentativo di mettere il bavaglio all'opposizione, andare a contestare la partecipazione di consulenti esterni alle commissioni di controllo, che sono l'unico organo deputato a controllare l'attività dell'amministrazione, beh, a me questo sa tanto di regime dittatoriale, non di un'assise democraticamente eletta che garantisce l'opposizione dei ruoli nelle commissioni di controllo, proprio perché lo statuto e il regolamento prevedono così.